ciao a tutti oggi parliamo di un ripristino impossibile su un commodore c16 allora questo c16 l'ho acquistato per ben 85 euro nel 2002 quindi ormai quasi 20 anni fa al tempo funzionava divinamente negli 85 euro erano inclusi il 1531 nero un capolavoro l'alimentatore originale marchiato commodore e questo bellissimo joystick anch'esso nero bellissimo adatto al c16 tutto questo insomma era bello e funzionante mi ha seguito in n traslochi e alla fine qual è il problema che ha ora che ogni tanto il video non si accende lui è vivo ma non si accende questo sia in uscita video che in uscita antenna quindi di fatto cercheremo di ripararlo bene iniziamo quindi con il restauro o pseudotale prima cosa bisogna aprire il c16 classiche tre viti a croce come il c64 nulla di particolare ecco stando attenti quando lo si apre al fatto che ci sono due connettori connettore tastiera connettore led che vanno staccati con un po di attenzione guardate anche bene magari la polarità allora anzitutto analizziamo la scheda in alto a destra troviamo connettore alimentazione e interruttore in basso a destra troviamo tutta la zona di controllo alimentazione 15 7805 che converte gli 11 volt che gli entrano in 5 volt classici ttl dopodiché invece sull'area di sinistra troviamo la gestione del video dell'audio la ram e multiplexer comunque partiamo dalle cose più importanti 8360 è il ted si occupa guarda caso proprio della gestione del video subito sopra la cpu 8501 volendo sostituibile con adattatore anche con la 6510 del c64 però visto che la linea plus 4 c16 c116 montavolo 8501 direi che è bene per una come dire originalità tenere il suo qui invece abbiamo questi tre chip u3 u4 u16 che si occupano del kernel del basic e quindi in ultimo il pla un po più a sinistra invece troviamo la ram a 44 16 e multiplexer 257 in basso un po più in centro non ho detto prima c'è anche il quarzo quindi la scheda è insomma molto molto semplice in fondo ovviamente vedete connettori ma è fatto molto molto semplice una piccola evoluzione del c64 evoluzione però purtroppo non è andata a buon fine nel senso che il c64 si mangerà c16 più scuato in un sol boccone ora vediamo l'effetto che dobbiamo risolvere adesso abbiamo acceso siamo collegati con la scart quindi uscita video entrata a scart quando vedete la scheda v2 significa che il televisore sente in entrata qualcosa ma di fatto come vedete non c'è raster non c'è l'immagine quindi ogni volta che sparisce la scheda v2 vuol dire che ho spento quando ho riacceso ricompare la scheda come vedete qui sto accendendo e spegnendo dando ovviamente dei tempi morti ecco adesso si è riacceso mediamente una volta ogni 5 ogni 10 si accende adesso qua si è acceso addirittura due volte di fila comunque questo è l'effetto che vorrei risolvere bene a questo punto una rapida occhiata per vedere gli elettroliti ci siano lasciato giù qualche danno anche sotto alla scheda che poi li cambieremo e andiamo subito a misurare con i tester le tensioni in questo istante è collegato video purtroppo spento quindi senza immagine e quindi dobbiamo vedere se almeno l'interruttore e l'alimentatore funzionano correttamente direi di sì ovviamente il test ha senso anche se verifichiamo il funzionamento quindi le stesse tensioni anche quando il c16 funziona divinamente anche qui ovviamente andiamo poi a discludere quindi che alimentatore interruttore connettore e lo 7805 abbiano dei problemi di fatto qui pare funzionare tutto a questo punto iniziamo a pensare ad un donatore perché considerato che appunto alimentatore tutto funziona iniziamo a pensare a cpu ted pla kernel e basic da sostituire per fortuna tutti questi sono su zoccoletto e quindi avendo io un plus 4 funzionante divinamente lo uso come momentaneo donatore bene ora incominciamo quindi dalla cpu 8501 la smontiamo dal plus 4 la montiamo sul c16 e dopo facciamo la prova adesso qua le immagini le faccio andare un po' veloci per fare prima bene abbiamo sostituito 8501 quindi la cpu con quella del plus 4 il ted invece ho lasciato il suo ho attaccato tutto e vediamo cosa succede assolutamente il nulla quindi non è la cpu bene dopo ho provato a sostituire il ted risultato come con la cpu quindi ho rimontato ted e cpu sul c64 e ho provato a vedere se almeno quello ripartiva bene bene alla fine sono partiti tutti e due però il plus 4 ovviamente funziona bene invece il c16 no allora questo è il c16 collegato sulla presa antenna al volo si vede come si vede invece sulla av4 sulla regia metterà av454 321 perfetto av1 scusate non av4 abbiamo il plus 4 che avente messo in quattro terzi che bello quindi insomma cosa abbiamo capito che non sono nel ted né la cpu a dare il problema sul c16 e quindi devo continuare a indagare ora tra le tante malsane idee che mi sono venute c'è anche quella di andare a sostituire il connettore video quindi visto che ho questo bellissimo c64 morto sepolto da anni smonterò la presa video e monterò sull'altro per due motivi uno perché sul c16 effettivamente questa presa è un po come dire ballerina adesso questo è in ordine secondo motivo perché non mi costa nulla farlo visto che i pezzi li ho in casa e più dello stagnatore un po di stagno non ho da fare è anche vero che l'uscita che non funzionava ieri era anche quella dell'antenna quindi diciamo che è un intervento che ovviamente non sarà risolutivo ma intanto miglioro anche la presa uscita video le proviamo tutte bene allora adesso abbiamo attaccato bene il cavetto alimentazione adesso abbiamo la valletta che ci accenderà e speriamo che funzioni vai perfetto infatti si sapeva già che non avrebbe funzionato però almeno adesso sappiamo che sicuramente i contatti uscita video ci sono quindi ricapitolando cpu cambiata e non è cambiato nulla ted cambiato e non ha cambiato nulla presa cambiata e non è cambiato nulla le 7805 ho visto che caccia fuori 5 euro tondi 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 sì 5 euro 5 volt tondi 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 e quindi non è neppure lui adesso possiamo riprovare al volo così vi faccio effettivamente vedere la tensione delle 7805 valletta ho bisogno di te se mi tieni questo qui bravissima sulla massa ferma lì andiamo sul 7805 5 volt tondi perfetto ho pensato che ieri ho sostituito il ted e la cpu del plus 4 ma non ho provato a sostituire la rom the basic che è questa la 318006 sul plus 4 avrei anche il kernel solo che hanno un kernel diverso perché questo al 318004 invece l'altro a 318005 è anche vero che c'è la versione subito dopo del g16 che ha lo 005 proviamo a sostituirle da anche questi una volta continuano le soddisfazioni anche sostituiti mio dio kernel e basic il risultato come si vede bene nullo non c'è verso non c'è verso quindi ho praticamente spostato tutto tutto quello che avevo sul plus 4 qua sopra e nulla vedete che bella soddisfazione tac 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 bene allora ho preso anche il PLA il 251 641 dal plus 4 e come vedete il risultato è sempre ottimo direi sempre ottimo quindi riassumendo cpu, ted, basic, kernel, PLA sostituiti tutti recapato ovviamente interruttore misurate le tensioni escono perfette 7805 perfetto e transistor tutti e tre misurati perfetti quindi questa parte qua è tutta a posto manca questa parte di qua e quindi a questo punto dobbiamo concentrarci veramente solo sulle due memorie il 4416 non resta altro su questa scheda cioè veramente non resta nient'altro adesso andiamo a ricomporre il plus 4 poveretto speriamo che funzioni ancora almeno quello ultimo tentativo eh che bello adesso è partito ma che bella gioia quando va quando vuole lui rispegniamo eccola adesso non va di nuovo qui ora abbiamo provato il quarzo del 64 risultato dopo 25 tentativi si è acceso in bianco e nero bene e così visto che non ne siamo venuti ancora a capo ho deciso di sostituire le ram le mitiche 4416 e qui abbiamo zoccoletti e le ram da montare quindi ripartiamo con il saldatore così dopo qualche leggerissima alledizione sul pin 1 che mi ha fatto impazzire l'abbiamo tolto adesso montiamo lo zoccoletto bene abbiamo montato sul zoccoletto anche la seconda ram a questo punto quindi facendo un riassunto veloce a partire dal connettore sostituito cambiata la cpu cambiato c'è veramente tutto praticamente cambiato anche l'8360 l'85.01 cambiati il terminal cambiato praticamente tutto adesso cambiata anche la ram vediamo cosa fa ovviamente le tensioni sono sempre giuste le ho appena provate 5 4 3 2 1 niente a questo punto mancano solo i multiplexer da cambiare e poi si fa volare il c16 perché è impossibile spegniamolo accendiamo un po' di volte vediamo se poi ci da il momento giusto sì ovviamente l'interruttore funziona divinamente perché questa è l'unica certezza alimentatore e interruttore sono perfetti le tensioni sono sempre giuste sì ovviamente dopo n tentativi comunque parte qui bisogna fare attenzione molta attenzione bene ho sistemato il filetto là sotto adesso montato il zuccoletto e andiamo a vedere se si accende tanto sappiamo già che non si accenderà tristezza bene abbiamo sostituito anche il secondo multiplexer eccolo là U7 e U8 nuovi come il sole 5 miliardi di anni fa bene passiamo al solito test che tanto andrà sicuramente male quindi guardiamo la televisione 5 4 3 2 1 e beh ovvio siamo allo standard proviamo accendere e spendere un po' di volte adesso blocco la registrazione come sempre e tra un po' partirà allora cominciamo ovviamente a non trovare nulla partirà 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 eccolo qua visto? questo è proprio effetto che non riesco a risolvere e pazienza ma e vi dico lo tengo così perché avendo cambiato praticamente metà C16 ci rinuncio adesso faccio il riassunto delle cose cambiate anzi dai chiudo con il C16 ovviamente richiuso led acceso display funzionante sapendo che comunque quando lo voglio far funzionare devo accenderlo almeno 10 volte per riuscire poi a vedere finalmente la videota iniziale è la dura vita dei C16 purtroppo bene se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale mettete se volete essere aggiornati su ogni nuovo video pubblicato anche il simbolo della campanellina e se vi è veramente piaciuto anche un bel mi piace ciao e grazie a tutti